3 ottobre 1226, muore San Francesco d'Assisi, nato intorno al 1180, partecipa alla guerra contro Perugia nel 1203 e inizia un cammino di conversione spirituale che cambia radicalmente la sua vita. Francesco fonda l'Ordine dei Frati Minori, riconosciuto da Papa Innocenzo III nel 1210, quello delle Clarisse nel 1212 e quello secolare, l'Ordine Francescano della Penitenza nel 1221. Nel 1224, nel ritiro sul Monte della Verna, Francesco riceve le stigmate. Due anni dopo la morte viene canonizzato da Papa Gregorio IX.